Mi chiamo Fabrizio Falciani, sono il marito di Patrizia Pozzato, la titolare di Pazzeria Parrucchieri. Abbiamo conosciuto Michela Ferraguti più di due anni fa su Facebook e seguendo il suo percorso abbiamo ottenuto risultati eccezionali, comprovabili, guardando il nostro blog, la pagina Facebook e quello che posso dire più che consigliare penso che è un dovere per chi vuole far crescere il proprio salone frequentare i corsi di Michela Ferraguti. Sì, abbiamo costruito il brand, abbiamo ovviamente cominciato a scrivere un blog che ora conta più di 215 articoli, utilizziamo le inserzioni di Facebook per comunicare alla nostra specializzazione quindi nessuna promozione, nessun tipo di sconto e grazie a questo otteniamo percentuali altissime di ritorno ogni mese con clienti nuovi che vengono da zone completamente diverse da quella nostra perché come target usiamo zone ricche di Roma e abbiamo oltre a fidelizzarli questi clienti ne abbiamo continuamente di nuovi, questo è un trend che va da luglio del 2017 fino a oggi sperando che continui così ma il giorno che Facebook magari non porterà più questi risultati utilizzeremo le stesse strategie con altri strumenti. Grazie. Grazie.